Nel tuo progetto c'è solo un problema e non è internet che non funziona, non è che ti mancano i soldi, non è quello, non è il cliente, sei tu, cioè tra te e il successo del tuo progetto sei tu che devi cambiare, sei tu che lo devi far succedere questa cosa. Io sono fortunato perché sono un tecnico, un founder tecnico, quindi mi dici un problema, io già so la soluzione, so quanto ci vuole, quante persone mi servono. Poi naturalmente fai, aspetta, scusa un secondo, vado a chiedere ai programmatori, sai purtroppo i programmatori sono sempre… All'inizio avevo anche due o tre email diversi, con nomi diversi, mi rispondevo da solo nei tre. Fantastico! Giulio Gaudiano! Strategia digitale Strategia digitale Il podcast con storie, idee, consigli per vivere bene e lavorare meglio usando il digitale in modo consapevole Strategia digitale punto info A cura di Giulio Gaudiano A cura di Giulio Gaudiano Simone Giacco, imprenditore digitale Niente, è un'azienda che fa messaggistica istantanea, è una cosa noiosissima, una sorta di app, una sorta di whatsapp privato per grandi aziende, su server privati, customizzato secondo le esigenze appunto di questi clienti, di queste organizzazioni. Sono un tecnico, CTO e founder di questa azienda, ho sempre fatto il programmatore, ho sempre smanettato dall'età di 16 anni, ho fatto il primo sito, a casa di un amico ancora non avevo il computer e eccomi qua. L'idea stessa che nei processi aziendali, al di là delle email e delle comunicazioni ufficiali, ci sia la possibilità di scambiarsi informazioni in maniera veloce, magari per stimolarsi all'esecuzione di un task che ne blocca altri, o semplicemente per condividere le informazioni, quelle informazioni che sono a volte potere, nel senso che ci consentono di capire meglio quello che stiamo facendo e farlo a un livello più alto. Questa idea è da poco entrata nelle teste di molte organizzazioni, l'idea che la messaggistica istantanea non sia quella side conversation, ma quella conversazione secondaria, ma faccia parte del processo, perché oltre alla quantità a volte ammigliora la qualità della comunicazione, è un'idea che richiede dei suoi strumenti e purtroppo in molti casi questi strumenti sono sbagliati. Non ci giriamo intorno, nominiamo l'elefante nella stanza, Whatsapp. L'idea che Whatsapp possa essere utilizzato per lavoro, io mi chiedo vando sempre, ha senso o non ha senso? Quali sono le indicazioni? Perché un simone giacco si deve mettere a creare un sistema di messaggistica per le aziende e le aziende non possono utilizzare Whatsapp esattamente come fanno per gestire il gruppo della danza dei figli? Perché non Whatsapp? Vabbè, intanto ci sono due elefanti nella stanza, Whatsapp e Teams e Slack per i più tecnici, per i più smanettoni. Whatsapp è un tool non studiato per le aziende, quindi appunto in teoria non permette nemmeno di fare attività lavorativa attraverso Whatsapp. Le aziende che ho come clienti hanno l'esigenza di avere il controllo delle comunicazioni, hanno l'esigenza di avere il controllo dei dati, banalmente se un dipendente perde il telefono da remoto si può fare wipe totale di tutte le conversazioni. Hanno bisogno di avere il controllo dell'encryption, in alcuni casi vogliono l'encryption end to end, quindi nemmeno l'azienda può avere accesso alle comunicazioni. In altri casi vogliono un'encryption normale, che è la stessa che ha Teams e Slack, perché l'azienda deve avere accesso a queste comunicazioni, come avviene con l'email, come avviene con Teams e Slack. Poi ci sono alcuni casi particolari, i casi dove non c'è internet, immaginate una nave, un cargo, una nave da crociera, un posto remoto, un posto di guerra, un posto di... Insomma, varie situazioni dove non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo contare su app di terze parti, tipo Whatsapp. Per ultimo, la privacy. Whatsapp è di proprietà di una corporation che di lavoro fa, raccoglie e vende dati e pubblicità su questi dati, quindi semplicemente non dobbiamo usarla in alcuni ambiti. A me c'è una cosa che fa uscire letteralmente di testa ed è l'idea che, io lo vedo con i genitori delle classi dei miei numerosi figli, l'idea è che non ci siano... che tu possa utilizzare un tool come Whatsapp e non ci siano controindicazioni. No, che male può succedere? È gratis? Lo utilizzo? Mentre diceva qualcuno, quando è gratis il prodotto sei tu, no? Come giustamente sottolineavi rispetto al fatto che il business centrale di Whatsapp è la raccolta di dati e l'utilizzo da parte delle società cugine, non ci dimentichiamo che Whatsapp, essendo di proprietà di meta, è cugino di Instagram e di Facebook, quindi tutto collegato, e dall'altra parte dati che poi diventano una proprietà dell'azienda che ci ha dato la piattaforma. Quindi numero uno, poi ci sono quelli che dicono, no vabbè ma il dato... Ecco, lo strumento che utilizziamo, il problema legato al dato, possiamo anche mettere la testa sotto il terreno e ignorarlo. Lo strumento che utilizziamo plasma il messaggio che mandiamo, banalmente perché può facilitare o disincentivare un certo tipo di conversazione. Qual è un caso in cui il vostro sistema di messaggistica istantanea realizza con la sua architettura una dinamica di comunicazione che altrimenti non avrebbe potuto funzionare attraverso i tool che sono lì fuori? Purtroppo in tutti i casi i nostri clienti cercano noi perché non possono utilizzare i tool lì fuori, altrimenti non saremmo una nicchia, invidio, whatsapp, anzi come sai ero partito da una nuova idea, consumer. Quindi l'invidio, li critico e voglio che non venga più usato in ambito lavorativo, almeno sulle grandi aziende. In quali casi il nostro tool influenza le comunicazioni? Per alcuni clienti abbiamo fatto una sorta di workflow, quindi a domanda segue una lista di risposte. Ovviamente puoi anche scrivere testo libero, ma quando c'è un ordine, un task, un comando, un'azione, tu puoi rispondere fatto o non fatto, sì o no, eccetera. Ecco, questo velocizza le comunicazioni, puoi farlo già dalla notifica, push, quindi non devi nemmeno aprire l'app. L'azienda, il prodotto, il servizio che ci racconti oggi non è quello con cui sei partito. Nel tuo percorso sei partito da un'idea differente che è evoluta nel tempo. Torniamo indietro nel tempo a quando hai iniziato la tua avventura imprenditoriale. Raccontaci qual è stato il tuo background e quando è che per la prima volta hai detto vorrei fare una start-up. Allora faccio, intanto, l'app è nata come app di messaggistica vocale. Quando WhatsApp non aveva, non tutti lo ricorderanno, non so che il pubblico, l'età del pubblico, quando WhatsApp non aveva i messaggi vocali, doveva andare su note, registra, note audio, stop, allega, invito, eccetera, eccetera. Io volevo comunicare con la voce, con i messaggi vocali, quindi volevo far sì che ovunque ci fosse una faccina, un nome, volevo poter tenere premuto e parlare. Quindi non solo il messaggio vocale che è attualmente dentro WhatsApp nella conversazione, ad esempio nella conversazione tra di noi, Telegram, WhatsApp, c'è il microfonino, premo, parlo, ma già fuori, dalla lista contatti, per me quello è già un pulsante push to talk. Infatti è così nella nostra app. Il famoso walkie-talkie. Esatto. Quindi, quest'idea mi era venuta anni prima, non c'erano gli smartphone, ero, stavo guidando, anzi, ufficialmente devo dire, ero un semaforo, e volevo, avevo questi nove tasti, no? I telefoni classico, classico cellulare, avevo questi nuovi tasti, volevo poter telefonare ad una segreteria telefonica di un contatto, senza fargli squillare il telefono, cioè non ci volevo parlare, io volevo registrare un messaggio. L'ho detto, perché se premo uno, tengo premuto uno, registro un messaggio per mia madre, e poi questo messaggio parte, va nella sua segreteria, ovviamente non c'erano i messaggi, due, mio cugino, tre, mia sorella. E questa sarà la mia prima bozza di idea. Poi sono usciti gli smartphone, e l'ho trasformata, appunto, in una startup. Ho detto, lo devo fare. Quindi ancora prima degli smartphone, cioè hai avuto quest'idea al tempo proprio del telefono non smart, della segreteria telefonica, nel momento in cui c'era la conversazione sincrona, quindi la telefonata, il messaggio della segreteria telefonica e l'SMS, non c'era altro, no? Esatto, volevo schippare la comunicazione sincrona per farmi rispondere dalla segreteria telefonica. Non l'ho fatto, cioè non era possibile tecnicamente. Però è lì che mi è venuta l'idea. Con il semaforo, col telefono in mano. Poi sono usciti gli smartphone, sono uscite le app, ho cominciato a sentire le prime storie di startup, e ho detto, questa la devo fare. Si chiamava, non si chiamava Messagenius, si chiamava WMS, era per emulare l'SMS, Voice Message System, e volevo coniare un termine in inglese, tipo, mandami un messaggio vocale, quindi VMS.me, e così è che ho chiamato la prima versione dell'app, VMS.me. Tu hai immaginato qualcosa che non esisteva, comunque qualcosa di utile. Il primo passaggio è stato pensare che questa cosa si potesse realmente realizzare. Quali risorse ti ha richiesto passare dall'idea alla sua realizzazione nella prima versione del tuo business? Ho fatto intanto una ricerca tra amici, ho raccimolato un po' di piccoli investimenti, parliamo proprio di speech rispetto a quanto si dente adesso. Da lì ho ingaggiato un'agenzia software, ho creato un team, e appunto ho fatto il primo MVP, che conoscete tutti immagino, cioè nel senso sapete tutti, conoscete tutti il concetto di MVP, di Minimum Bible Product, e ho fatto la mia prima app di messaggistica. Abbiamo iniziato ad usarla noi stessi, tra di noi ci mandavamo messaggi vocali a raffica, e questa è stata la prima versione, che sapevamo non poteva reggere nessun, come dire, alto numero di utenti, quindi era proprio un MVP fatto apposta per essere dimostrato, per attirare ulteriori finanziatori, quelli veri. Questo è molto interessante, l'idea di vedere l'esperienza completa, non ce l'ho nella mia testa, penso che funzioni, vediamo se è realmente l'esperienza nella vita quotidiana, funziona a un senso, oppure se, no, nella mia testa funzionava, e nella realtà no. Quindi questo MVP, questo Minimum Bible Product, la versione minima del prodotto, per capire se funziona, credo che sia una costante dei business, che poi realmente riescano a fare qualcosa, perché non riuscirai mai, in prima battuta, a farlo perfetto come lo volevi, pronto per tutti. Però è anche sbagliato, muoversi solo sulla carta. devo prima sporcarmi le mani e poi vedo come funziona. A quel punto, la fase 2, cioè hai cominciato a cercare i finanziatori, che cosa è successo? Mi sono iscritto a tutti gli eventi di startup che nel frattempo iniziavano ad uscire, il primo si chiamava Bar Camper, gestito da Gianluca Dettori, e mi sono iscritto, ho partecipato, quindi ho passato le selezioni, ho partecipato a questo acceleratore, poi c'era un pitch finale e la mia idea era tra le tre vincitrici. Abbiamo vinto un viaggio in Silicon Valley ed è lì che ho fatto poi, ho conosciuto il mio secondo acceleratore, Mind the Bridge, al quale ho partecipato qualche mese dopo e devo dire che l'acceleratore è stata, poi ne ho fatti tantissimi in vita mia, ma l'acceleratore è stato... mi porto ancora dietro alcuni insegnamenti di Dettori, di Augusto Coppola, degli insegnanti che erano al Bar Camper. Quali sono queste cose che hai imparato, che ti hanno sbloccato e che ancora oggi sono utili nella vita quotidiana? Fammi un esempio di qualcosa che, quando l'hai sentita hai detto, mazza non ce l'ho mai pensato, ed effettivamente ha avuto un diretto riscontro in quella che è la tua avventura imprenditoriale. C'è una frase che mi è rimasta impressa di Augusto Coppola che diceva, c'era una slide, diceva tra... Nel tuo progetto c'è solo un problema e non è internet che non funziona, non è che ti mancano i soldi, non è quello, non è il cliente, sei tu. Cioè tra te e il successo del tuo progetto, sei tu che devi cambiare, sei tu che lo devi far succedere questa cosa, l'execution, l'impegno, buttare il cuore al tuo ostacolo, insomma questa mi è rimasta impressa e io la dico spesso quando sento colleghi, ma in ambito start-up o amici che mi si è rotta la macchina, ho fatto tardi, sempre colpa tua è perché c'è sempre un motivo che è imputabile a te, ecco, poi non è il 100%, ma come il concetto funziona, ecco. Non è matematica, ma funziona. Questa mi è rimasta. Hai cominciato, hai sviluppato il minimum viable product, hai trovato i primi finanziamenti, sei andato in Silicon Valley, hai avuto lì degli insegnamenti, ma a un certo punto questa idea che stavi sviluppando ha incontrato un ostacolo. Ecco, raccontata così sembra una cosa romantica, però io immagino che l'ostacolo non è mai un ostacolo unico, ma è tutta una serie di difficoltà che poi piano piano a un certo punto diventano un ostacolo insormontabile. Com'è successo che l'azienda, il prodotto che stavi sviluppando, non funzionava come ti aspettavi, come vi aspettavate? Altra premessa, nel frattempo mi ero iscritto ad un altro acceleratore qui, Team V-Cup, Working Capital si chiamava. A un Simone li conosce tutti, li ha acceleratori, quindi se volete trovare un acceleratore andate a Simone, lui l'ha fatto. L'ha fatto tutti. E all'evento di pitch di cui parlavo prima, vengo contattato, scusate non c'è niente con Working Capital, ma poi ci tornerò, vengo contattato da un investitore, non start-up, era un classico investitore proprio industriale, mi invitano a questo ufficio gigante su Piazza del Popolo e insomma tra varie trattative, chiacchierate, caffè e pranzi mi offrono 500 mila euro, che all'epoca 2014-2015 erano tanti, cioè non conoscevo nessuna start-up che aveva preso 500 mila euro con un MVP. Benissimo, contentissimi, era luglio, facciamo passare agosto allora, mi dicono loro, io avrei firmato ovviamente subito, facciamo passare agosto, benissimo, facciamo passare agosto. 10 agosto mi chiama un mio amico e mi dice c'è la tua app in televisione, no, non c'è la mia app in televisione, guarda, c'è messi Leo Messi che sta mandando un messaggio vocale e l'app mi sembra la tua, veramente, dopo insomma vado subito a cercarla, sta pubblicità, e effettivamente era uscito WeChat, fondi cinesi, illimitati, aveva ingaggiato Leo Messi e Belen Rodriguez, lo posso vincere, né da, né conone, e quindi, e aveva messo sto messaggio vocale, non proprio come il nostro push talk subito, ma come quello che c'è attualmente su WhatsApp. Quindi l'app non era la tua, ma diceva la stessa funzionalità. Ho tevuto per un attimo e te l'avessero copiata, questa non la sapevano. No, no, non mi hanno copiato, semplicemente la stavano già facendo, chiaramente, e poi i cinesi sono molto, usano molto i messaggi vocali, quindi ovviamente WeChat li ha messi subito dalla prima versione, e il giorno dopo mi chiama l'investitore e mi dice, bello mio, no, non si può più fare, ma abbiamo firmato l'accordo, no, guarda, non si può più, e così ho perso l'investimento. Quando si dice la tempistica è tutto, Aspettiamo agosto, andiamo in vacanza, tranquilli. Quale è il problema? E questo è. Ok, quindi WeChat, subito dopo, dopo qualche giorno WhatsApp ha aggiunto il messaggio vocale, quindi noi abbiamo capito che non c'era nessun margine di successo per un'app consumer, quindi per un altro WhatsApp, per un altro WeChat. E nel frattempo vari eventi di open innovation si chiamano, sono quegli eventi dove le grandi aziende fanno scouting di piccoli progetti di start-up tipicamente. Ad un evento di open innovation dove noi raccontavamo questo, ci abbiamo messo in mezzo, visto che erano tutte aziende, ci abbiamo messo in mezzo la possibilità di farlo diventare un'app business, quindi per l'azienda. Perché comunque non vi siete arresi subito davanti a WeChat, cioè quello vi ha fatto saltare l'accordo e voi avete detto va bene, troveremo qualcun altro che cederà i soldi. esatto, no, mai arresi, no, no, assolutamente. Certo è una bella botta, ma non ci siamo mai arresi, quindi rifacciamo la presentazione, pensiamo a due o tre altri casi d'uso e tiriamo fuori questo, che però rimane parcheggiato un po' da una parte e ne tiriamo fuori un altro, perché troviamo poi un cliente, un advisor che lo vogliono portare avanti, che era quello di inserire una messaggistica all'interno dei video, dei film, anche della TV, quindi tipo quello che è successo qualche anno dopo con i video di Instagram, dove si vedono i commenti che escono da sotto, come anche Facebook adesso, ma Instagram è stato il primo. Quindi facciamo quello, lo facciamo, questo è stato il nostro primo pivot. Mi piace tantissimo la tua esperienza Simone, perché, numero uno, perché c'ha quell'articolazione che ti fa capire come di anno in anno succedono cose, arrivano competitor, cambiano le tecnologie, passano opportunità, certe cose ti fanno crescere umanamente, professionalmente, ma sembra che lì per lì non le puoi applicare, altre ti portano soldi, ma poi sono binari morti. Ecco, credo che sia emblematica la tua storia ed è, ti ringrazio per condividerla in maniera così aperta, è un servizio che fai a tanti, i quali invece cadono nella versione cinematografica dello start-upismo, per cui devo avere l'idea, deve arrivare tutto insieme, il successo, poi devi diventare di massa, anche c'è un elemento secondo me bello che è il fatto di raccontare una visione, anche non avendo il prodotto, quindi un po' coraggio, un po' scapestritudine, il fatto di dire facciamolo, perché so di poterlo fare anche se non l'ho fatto, e poi di vedere dalle reazioni del mercato qual è la strada giusta, cioè fartelo indicare dal mercato, ma se quel giorno non ci sei sul mercato, andando all'evento, raccontando la cosa, parlandone, non sai carpire la risposta del mercato, lo dico perché molti arrivano, magari già ti chiedono i soldi, e guardi noi stiamo raccogliendo un milione di euro, ma è un progetto non glielo può, è molto ambizioso, ma insomma non glielo posso raccontare, cioè e allora se non me lo racconti, cioè vuoi i soldi, capito di che cosa, di un sorriso, cerchiamo un attimo di capire da che parte si va, quindi invece il fatto di raccontarlo, verbalizzarlo, trasformare una visione in parole che ti descrivono qualcosa per vedere se c'è il cenno della testa sì o il cenno della testa no, ti dà un'indicazione preziosa su dove orientarti a seconda di come reagisce il mercato, a un certo punto Messagenius riesce a trovare questo primo cliente, questo primo cliente è di fatto quello che si chiama il pesce pilota, cioè quello sul quale piano piano tutto il prodotto e il servizio prende una direzione perché capisce che effettivamente funziona, quando è il momento in cui hai detto tagliamo tutto il resto e concentriamoci su questo perché in teoria nel momento in cui me lo racconti quello è una tra le varie strade, uno tra i vari modelli di business e uno tra le varie forme che il tuo prodotto o servizio poteva prendere. No, abbiamo tagliato quasi subito dall'ok del primo cliente, gli altri pentennavano parecchio, questa era comunque la strada che più o meno avevamo individuato, che sapevamo che aveva un percorso insomma che era la più la più probabile. Avevamo altre quella dei messaggi a video, avevamo non me le ricordo nemmeno tutte ma c'erano dei piccoli esperimenti che avevamo fatto solo su carta. Se oggi tu ne hai fatta di strada dal punto di vista imprenditoriale, se oggi ci potessi riparlare con il Simone di un tempo che si casa che vuole fare il suo MVP che ha i primi amici che gli dicono dai sì figata che cosa gli consiglieresti? Allora io ho una ferita aperta personale recente quindi devo uscire un po' dall'ambito lavorativo. Se tornassi indietro io direi convinci Cristian a mettersi la cinta non ci sono riuscito è andata malissimo e se tornassi indietro questa è la prima cosa che farei l'unica cosa è cambiare della mia vita poi passiamo scusate un attimo datemi cinque secondi vai tranquilla anche perché questo molte volte noi pensiamo al business come fosse un grafico un insieme di numeri un business plan il business è vita e si incrocia con le nostre vite non a caso quando spiego delle persone in un percorso di consulenza io faccio anche delle domande gli chiedo scusa ma te sei sposato hai figli i tuoi genitori sono vivi che lavoro fanno e uno dice ma che te frega a parlare qua della strategia di marketing ma che ti importa perché molte volte anche la strategia giusta in un contesto in cui non hai il supporto hai il supporto se hai un conflitto hai una mancanza tipo non può non funzionare per cui sui numeri tutto ok però poi alla fine c'hai delle difficoltà poi c'è la vita infatti la seconda il secondo consiglio che mi darei è prenditi un po' più di tempo io avrei voluto sarei voluto venire qui in elicottero l'elicottero tra l'altro parcheggiato su uno yacht dentro magari una piscina privata quindi prenditi tempo ho lavorato tanto da quando ho 17 anni che lavoro ho lavorato ho studiato mentre studiavo lavoravo e sempre in questo ambito più o meno non mi sono mai preso un anno all'estero è una cosa che mi manca mi manca non aver fatto quindi il tempo c'è caro Simone tanto non diventerai ricco a 25 anni prendi tutto il tempo che ti pare fatti un anno fuori c'è tempo per fare tutto e quindi questo sarebbe il mio secondo consiglio il terzo 3 hai detto? vai non t'avevo dato un numero ti sei dato il 3 da solo 3 consigli seguitemi per altri consigli allora c'è un altro consiglio devo questo è proprio lavorativo caratteriale manageriale diciamo devo dire più no devo dire devo licenziare più persone più facilmente perché magari non licenziare una persona non dire un no a un cliente o non dire un no a una persona a un dipendente a un partner a qualsiasi cosa questo può magari arrivare anche nella vita non significa tutelare lui magari si tuteli lui ma tu stai non tutelando tutto il resto del team che comunque conta su di te conta sulle due scelte e molte volte le scelte devono essere rapide decise e brutali quindi non licenziare a caso non mi direi questo pensaci bene ma poi quando hai deciso di licenziarlo non far passare sei mesi perché il resto del team ne risente sia psicologicamente che a livello di produttività ne risente l'azienda ne risente insomma Giulio Gaudiano strategia digitale strategia digitale il podcast con storie idee consigli per vivere bene e lavorare meglio usando il digitale in modo consapevole in modo consapevole strategia digitale.info a cura di Giulio Gaudiano cura di Giulio Gaudiano